Lavoro solo io in casa, mio marito non lavora da quasi due anni, abbiamo tre bambini e casa mia è piccola, 40 metri quadri, quindi la dobbiamo suddividere abbastanza bene perché nel corridoio c'è il maschietto, in cucina, apriamo il letto la sera, diventa matrimoniale e dormono le priminucce. Tonio prima lavorava, l'ultimo lavoro che ha fatto era il cameriere, quindi ringrazio veramente il signore che lavoro io, almeno per i bambini. Guadagno 1500 euro al mese, poi dipende anche le domeniche, le festività, si tira anzi a volte manco arrivi a fine mese, perché anche la scuola comunque devi comprare le cose, c'è sempre una cosa che serve a scuola. Qua comunque non c'è niente e quindi il sabato quando il drone vanno a scuola, mio marito prende le bici e si è lontana, perché qui non c'è, non ci sta niente. Solo la scuola è l'asilo, ma la scuola media non c'è, sta qui a Santo Spirito, comunque qui anche i servizi mancano, manca anche la cartoleria per comprare un quaderno, un esempio, la posta manca. Non c'è niente per i bambini, non c'è niente, non c'è niente qua. Io gli chiederei ai nostri politici di vedere molto per ogni famiglia la situazione, di aiutarli economicamente, anche vedere i bambini dove abitano, se hanno il loro spazio, di dare anche un aiuto in più nella scuola, perché le maestre sono anche importanti con i bambini, un aiuto in più serve. Il mio futuro ormai con il lavoro e casa è finito qua, ma per i bambini è molto brascoso, non c'è futuro per loro. Me ne vorrei andare, io lo dico sempre, spero che mio marito trova lavoro, mi sconto con la macchina e troverai casa dall'altra parte, ma qua no, perché avendo anche un figlio maschietto, le brutte compagnie, mi spaventa.